Un tavolo in videoconferenza con Roma dove era presente il sindaco metropolitano Cateno De Luca si è riunito nel pomeriggio di ieri il comitato di indirizzo e controllo del patto per lo sviluppo della città metropolitana di Messina dell'Agenzia per la cooperazione territoriale che ha messo il sigillo sull'attività sinquisvolta dagli uffici della ex provincia di Messina in discussione la proposta di riprogrammazione del patto per lo sviluppo della città metropolitana vagliata nel corso dei mesi gennaio e febbraio 2019 con una richiesta di alcuni chiarimenti da parte del dipartimento una riprogrammazione approvata a seguito degli istruttori a portata avanti dal comitato che permetterà di richiedere il trasferimento di ulteriori risorse oltre le anticipazioni per consentire di accelerare la spesa sono soddisfatto del risultato ottenuto ha dichiarato il sindaco De Luca da mesi lavoriamo per raggiungere questo risultato abbiamo eliminato gli interventi che si presentavano come irrealizzabili sotto il profilo dei tempi imposti dal cronoprogramma del masterplan e abbiamo inserito progetti cantierabili che ci permettono di rispettare il principio dell'apertura dei cantieri entro dicembre 2021 ad ottobre, ha aggiunto il sindaco metropolitano si procederà alla rimodulazione delle altre linee di intervento al fine di recuperare il tempo perduto nell'ultimo triennio tra le nuove proposte, oltre 10 milioni di euro per l'approvvigionamento idrico della città di Messina oltre 40 milioni per lo svincolo autostradale di Alitterme circa 30 milioni per lo svincolo di Monforte San Giorgio 5 milioni di euro per il restauro di Forte Gonzaga e 2 milioni e mezzo per i licei di Lipari